Ciao a tutti, Giorgio Nintuber, Siaki, Tommy e il cane. Allora, dovevamo accendere la miccia se non... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Scusa, scusa, scusa. Il cane viene qui. Prima uccidiamo il cane. Ah, viene qui il cane. Eh beh, cazzo, fai un poco rumore. Cosa? Uccidere il cane non si prenderlo più in giro. Provanza, la dinamite, la dinamite, ha cesa? Così? Perché ho pensato che potessi combinarsi. Non l'idea fosse per accenderla. Come faccia la salida? Ma... Non lo so, ma non ho avuto a ste idea. No, meglio, meglio non rischiare. Diretti accendere la dinamite. Allora, cedino? Si. Per forza. No. Cosa, come no? Perché no? No, non c'entra la dinamite. Cos'è? Ah! Scappa! Ah! Ah! Perché lì? Cos'è successo? Mi ha lanciato una granata sorotente. Mi ricordo. Oh no. Sono un idiota. Dovevamo uccidere il cane. Io direi di caricare la partita e... Ma dico, anch'io. amico mio. Era l'ultimo, almeno? Fantastico. Ok. Siamo di nuovo dove eravamo le amputate precedente. Ma va bene. Va bene. Questa è bella della diretta. Esatto. Fallire, ma carica la partita e non fallere più. E ricominciare. Quindi metti la miccia, lanci la dinamite contro il cane e scappiamo da questo posto. Perché la devo lanciare contro il cane? È una tutta persona. Io ho paura che poi mi salga addosso. Vabbè, tanto, se hai dovuto ricominciare la partita, aspetta, aspetta di attivarla! Non l'ho attivata, la devo lanciare. Ah, davvero? Fantastico. Abbassati, avvicinati. Sì, stronzo, te la getto in faccia! Ah! Io ho una paura fottuta. Tanto, anche se c'è marta. Se il cane mi vede e mi arrivo incontro, esco e carico la partita diretta. Senza ripensamenti. Prima di tutto. Dov'è? È lì dietro. Lì, lì, lì. Ah, è lì dietro. Lo vedo. Vedo il suo culo male. Bisogna andare dietro il suo culo e non c'è lì dietro. No, no, è lontano. Oh, cazzo, lo sto lanciando se mollo il sinistro. Muori cane, muori! È morta! Ho sentito che ho fatto... No! Fidati. Ho sentito correre. Vedetemi noi. Sì, aspetta! Voglio vederlo. No, giochi te. Cambio. Switch. Switch. Ho una paura fottuta. Non mi ricordo neanche i tasti. I pari. Tieni. Vai, 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 vai. Gasato. Gasato. Guardo. Guardo. Stai fermo, stai fermo qui, stai fermo qui, stai fermo qui, stai fermo qui, stai fermo qui. Eh no! Come che fai? Come vettilo su? Control. Ah! Come carne? Fuck! Ragazzi, ok, maratona con cane. Mi prenderà? Siamo tutti! Siamo tutti! Siamo tutti! Non ti girai. Entra nella porta! Passo! Passo! Entra nella porta! Entra nella porta! Com'è che si è per l'inventario? No! Entra nella porta! No! È morto il cane, lo affronto! Tommi lo scappa! Ah! Ci ha lasciati! Calmi! Via! Calmi! Calmi! Ok! Ci ha lasciati! Ci ha lasciati! Dov'è? Sì, ma io non glielo lascio così! Cosa? È morto! Bam! Dove sei? Vai là! First! Run! Bam! Ah, cazzo! Premo C per abbassarmi! Ok! È tornato dalla sua postazione? Comunque la dinamite non gli ha fatto un cazzo! No, no, no! Sicuro che sia ancora là? Eccolo! Oddio! Ragazzi, per me ci cazzo! Vabbè! Diciamo che la dinamite contro il cane ha perso! Razzetto? Non va! Fa! No! Come davvero funzionerà? Ma perché scarico quella cazzo? Ah no! Perché non gli abbiamo ancora messo questa! Ah! Ma anche adesso dirà! Guarda eh! Dice! No! E prendi! No! Ok! Concentriamoci! Nel senso che non va! Non va! No! Usa il razzetto! Stavo scherzando! Usalo! Oh! Sono idiota! Penso! Prova! Abbiamo fatto! Direi che dovremmo anche caricare la partita! Ma no! Accenditi! Ragazzi! Ti prego! Accenditi! Ma non hai altro! Guarda l'alimentario! Non ho altro! Quella! Quel tubero lì! Cos'è gaspera? Ah! Ma vaffanculo! Ok! Ragazzi! Ragazzi! E' deprimente questa cosa! Aspetta! Mi sa che l'episodio può finire qua! No! No! Scappiamo! Finisce con la nostra fuga! Di che? Corri! Whatfuck! Come che stile di accendino? Via! Ah! Ecco lì! Oh! Adesso esplode il cane ci viene con... Via! Via da quelle casse! Fast! Via! 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 Si corre! Via! Oh! Ok! Perfetto! Ragazzi! Il cane avrà vinto con la dinamite! Ma noi abbiamo vinto con tu il cane! Perfetto! Quindi ragazzi! Questo... Per questo episodio è tutto! Da Gentuber Siachi! Tommy! Ci vediamo alla prossima! Mettete in piaccia! Commentate! Iscrivetevi! Se c'è più il cane! Speriamo! Speriamo di no! Ciao! Ciao!